Il processo concreto di costruzione del piano strategico, cosa si aspetta, il suo comune, la sua realtà da questo progetto? Buongiorno, è chiaro che faccio il consigliere metropolitano e di conseguenza so benissimo di cosa parliamo. Parliamo della possibilità di utilizzare l'avanzo di amministrazione della città metropolitana per tutti i comuni della città metropolitana. La mia città è una città di 60.000 abitanti, pertanto riuscirà ad utilizzare questi fondi che saranno stanziati sul titolo secondo del bilancio pluriannale, un bilancio che già stiamo predisponendo per realizzare opere necessarie perché nella provincia al nord di Napoli mancano tante infrastrutture e di conseguenza questa è una bocca d'ossigeno importante anche perché fatta in maniera omogenea su tutti i comuni migliorerà tutta la fascia della città metropolitana. Se lei dovesse indicare ai suoi cittadini uno o due opere principali, importanti, che pensa di poter realizzare grazie ai fondi della città metropolitana? Acerra già sta lavorando per adeguare il bilancio e il piano triennale delle opere pubbliche, sicuramente inseriremo la realizzazione di un palazzetto dello sport e la realizzazione di un parco pubblico, un parco pubblico di circa 50.000 metri quadri che faremo una fascia di verde anche perché Acerra ha sempre bisogno di migliorare il proprio bilancio ambientale, di conseguenza utilizzare questi fondi per migliorare la situazione ambientale penso che sia una cosa utile per i cittadini dal punto di vista ambientale, è utile anche perché avere un luogo dove andare a trascorrere un poco di tempo all'aperto e potendo essere anche riferimento di tutta la città metropolitana perché un parco di 60.000 metri quadri non si trova in tutte le città. Ecco un'ultima domanda, lei è consigliere metropolitana quindi ha vissuto tutta la fase anche di costruzione in questi mesi come mai i sindaci non partecipano più attivamente alla costruzione del piano strategico e se ne sente parlare solo ora? Beh vede, i sindaci oggi hanno tanti problemi, vengono assillati, assediati da tante problematiche del quotidiano e molte volte hanno difficoltà a programmare il futuro delle proprie comunità chiaramente molte volte non si crede nei processi di partecipazione perché si pensa che poi non arrivano i fini in fondo ma è come questa volta invece il processo di partecipazione è iniziato, sta andando a compimento, penso che andrà a compimento entro maggio di quest'anno e penso che questo sia anche l'inizio di una nuova metodologia di confronto che potrà spronare e sicuramente avvicinerà i sindaci alla città metropolitana che la vedrà come ente che ha la possibilità di risolvere alcune problematiche perché magari dopo la riforma della città metropolitana era vista come un ente quasi inutile, inutile non lo è e lo stiamo dimostrando in questi giorni